Un appello per salvaguardare il complesso ospedaliero Opera Donuva di Foggia, per salvaguardare i posti di lavoro di tutti coloro che, nonostante i disagi e gli stipendi non pagati, svolgono quotidianamente con serietà e professionalità un lavoro che è anche una missione, prendersi cura di quanti hanno bisogno di aiuto. Una richiesta rivolta alle istituzioni, ma non solo, che proviene dai familiari dei pazienti ricoverati o in cura, presso gli istituti e licenti di riabilitazione della struttura ospedaliera foggiana, riuniti in un comitato spontaneo per esprimere solidarietà a quanti vi lavorano all'interno. I membri del comitato, che da qualche tempo è presente anche su Facebook, si dicono pronti a scendere in piazza per manifestare accanto ai dipendenti del Donuva, fianco a fianco con i medici, le infermiere, gli operatori e gli educatori, che ogni giorno si prendono cura di bambini disabili, anziani colpiti da Alzheimer o dei malati terminali. Professionisti che non hanno mai fatto mancare il loro contributo per assicurare quel livello di assistenza sanitaria e riabilitativa che tanto onore ha fatto nel corso degli anni al complesso ospedaliero, e nonostante non ci sia alcuna certezza sulle sue sorti future. L'appello è rivolto al Papa Benedetto XVI, al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a Nichi Vendola, ai senatori e ai deputati della Capitanata, così come al Sindaco di Foggia Gianni Mongelli. Una richiesta d'aiuto indirizzata a chiunque possa fare qualcosa per lente, dalle istituzioni religiose e civili, alle forze politiche, economiche e sociali di tutto il territorio, perché, come sostengono i membri del Comitato, nessuna crisi aziendale è il diritto di cancellare le cure, gli interventi e l'affetto che tutti gli operatori del Don Uva dimostrano quotidianamente, né tantomeno la speranza e il desiderio di guarigione di tutti i malati.